allora sto ricevendo un sacco di richieste d'aiuto per quanto riguarda l'impostazione primaria a claudio dove devo mettere sto ramo come si imposta al bonsai io un aiuto lo do a tutti ovviamente su usa però potete capire che non è che posso entrare dentro il cellulare con la mano prendo i rami della pianta di giro l'imposto di metto il filo c'è una roba che non si può fare quindi per i più intelligenti spero cercate di capire che ci sono dei limiti quindi questo mese c'è un videocorso gratis sul mio sito su claudio bonsai.com dove spiego l'impostazione primaria del bonsai video fatto in questo acero credente qua ed è il video che ha ricevuto più visualizzazioni e più recensioni positive sul mio sito ok quindi c'è quello lì disponibile per tutti anche per i più stronzi quindi solite imparare impostare bonsai cliccate su claudio bonsai.com fate un ordine avete gratis un video dal valore di 97 euro così imparate iniziate impostare le piante con le vostre mani